Ma guarda se mi dite, poi domenica sera, scontro a centrocampo, per quanto riguarda magari Tonali e Locatelli, penso che Locatelli sia più pronto da questo punto di vista, un giocatore che comunque ha un tocco di pala diverso, già un pochettino più tecnico, ma continuate un po' tutti a ribadire che Tonali è un gran giocatore, Tonali è un giocatore che può diventare Pirlo a quei livelli, onestamente per me non è un buon giocatore, è un ottimo giocatore, concordo con voi da questo punto di vista, però vi posso dire che non è Pirlo, io ho 21 anni, già vincevo un europeo con l'Under 21, Tonali ha fatto un discreto campionato l'anno scorso, sta facendo meglio sicuramente da questo punto di vista, ma io non penso che abbia il tocco di pala di Pirlo, da questo punto di vista non mi trovo totalmente in disaccordo con voi, per quanto riguarda poi la partita di domenica, sicuramente, certamente Locatelli, ripeto, un giocatore che dalla metà campo in su fa delle grandi cose, deve imparare un pochettino a coprire un po' di più, a correre un po' di più, chiaramente sono cose che secondo me pian piano poi col tempo Allegri gli insegnerà questo poco ma sicuro, guarda.